... perché lo spazio è ridotto, va bene? Nuovo tour in Sicilia di Marco Grossi per conto della Juventus per visionare un po' tutte quelle che sono le scuole calcio affiliate appunto al club bianco-nero. Oggi si trova qui ad Agrigento, Marco Grossi. Sì, buongiorno a tutti. Il compito della Juventus è quello di prestare assistenza e supporto tecnico per quelle che sono le 72 academy su tutto il territorio. Qua in Sicilia sono nove e l'Atletico Agrigento è una società importante, una società che sta crescendo e appunto diamo il nostro supporto totale. Questa è la seconda volta che viene qui ad Agrigento. Ci sono sempre delle novità o no? Ma sempre delle novità, tolta quella del tempo che siamo nel pieno inverno. Ci sono delle novità importanti perché la Juventus è sempre pronta ad affrontare nuove sfide e quella dell'Atletico Agrigento secondo me è una sfida importante. Michele Malamace è il presidente nazionale dell'Accademia dello Sport a livello Italia. Viene dalla Calabria e anche lui sovente fa un giro veloce per tutte le scuole calcio affiliate anche alla Juventus. Sì, certamente. Buongiorno a tutti. Io mi occupo di questo progetto che è stato già presentato in Calabria e in questo momento qui l'Atletico Agrigento ha condiviso con noi questa iniziativa. Questa iniziativa prevede di lavorare a livello nazionale e locale dando la possibilità a tutte le scuole calcio che hanno delle idee, dei programmi che vorrebbero realizzare a livello annuale su quello che è il territorio di poter assisterli per poter riuscire mediante tutto quello che è l'opinione pubblica e quindi parliamo di un progetto che va visto all'interno di un'ampia attività del sociale quindi dedicato al sociale, quindi copre tutto quello che è l'annualità e programmata di una scuola calcio che prevede iniziative che adesso con l'Atletico Agrigento stiamo portando avanti e che realizzeremo nel corso di queste giornate per poter presentare sicuramente in marzo questo progetto a tutte quelle che è l'opinione pubblica e condividere poi partendo da Pasqua sicuramente per poi protrarlo in un centro estivo che si concluderà nel periodo da luglio e giugno queste iniziative che saranno sicuramente idee che porterà l'Atletico Agrigento perché noi cerchiamo di non violentare comunque sia le società ma cercare di condividere con loro delle idee che essendo loro sul territorio più di noi conoscono quelle che sono realtà quindi portare avanti delle iniziative che sono in ambito sia di sportivo che sociale Luca Praro è uno dei tecnici dell'Atletico Agrigento l'altro è tutto in clima come si svolge questo appuntamento con i giovani calciatori? L'appuntamento di oggi alle 3 e mezzo tutti in campo con il tecnico Marco Grossi che inizierà dalla categoria primi calci a seguire poi ci saranno i Pulcini che tra l'altro anche oggi organizzeranno c'è la partita con il San Piaggio Platini nella categoria Pulcini dove il tecnico Marco Grossi potrà vedere all'opera per la prima volta i ragazzi giocare in una partita dopo ciò farà anche con gli esordienti la categoria esordienti farà pure attività sempre lui dimostrandosi delle novità che porta sempre la Juventus venendo qua e poi sicuramente seguirà anche gli allenamenti degli allievi grazie grazie grazie